Sono Walter Costanza, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Fiumicino per le elezioni del 14 e 15 maggio. In questi ultimi 5 anni ho lavorato come consigliere comunale, mettendoci tutto l'amore e la passione che ho per la mia città, città dove sono nato e vivo ancora oggi con la mia famiglia. Il mio sogno è quello di rendere la mia città una città inclusiva, una città accessibile a tutti. Tra le nostre priorità la tutela dell'ambiente e la salute pubblica, tra cui il potenziamento delle strutture sanitarie, centri di aggregazione per i nostri ragazzi, il miglioramento della rete del trasporto pubblico per rendere più capillare i collegamenti tra le varie località. E per fare tutto questo ci vuole Costanza.